Con Alberto Salmaso commentiamo un po' quello che è stato l'esito del Consiglio Comunale di ieri sera che era chiamato ad esprimersi sulla fusione APS-Bus Italia, un tema che ha tenuto banco nell'ultimo periodo. Alla fine la decisione che ne è uscita è quella che non si è presa nessuna decisione. Esattamente, ieri sera con la sospensiva di fatto bipartisan da una parte all'altra si è andata di nuovo a smentire la maggioranza di questa ormai triste e finita amministrazione. Dall'altra parte è un voto che non serve di fatto a nulla se non a procrastinare il giudizio nel merito. Cioè si rimanda la decisione alla prossima legislatura. Il voto di questa mozione sospensiva è stato votato sia da membri di centro-sinistra che da membri di centro-destra con due posizioni paradossalmente opposte. Uno che era favorevole, quelli di centro-sinistra alla fusione, ma di fatto non c'erano gli elementi per giudicarla. Dall'altra parte invece, contrarietà alla fusione stessa per i motivi esattamente opposti. Quindi purtroppo non è stato deciso nulla. Questi lavoratori, questa società che comunque dipende dal comune di Padova dovrà vedere il suo futuro ancora con una nube molto pendente sul proprio capo e vedremo nei prossimi mesi cosa succederà. Gli elementi di questa fusione sono ancora molto incerti. Non è stato presentato il piano industriale. Non si capisce bene chi abbia valutato come le quote di questa fusione, di questa ipotetica nuova società. Di fatto una cosa che la politica in questi anni purtroppo palesa un po' a tutti i livelli è il fatto di non decidere. Cioè chi è deputato a decidere deve prendere una decisione o popolare o sostanziale. In questo caso dovrebbe essere sostanziale per l'interesse del comune di Padova. Dopo saranno i cittadini che devono votare e quindi dare un giudizio nel merito. Ieri sera, ripeto, si è deciso di non decidere. E purtroppo forse questo andrà a scapito proprio a quelli che si voleva tutelare.